Ciao a tutti, otto cose che le persone consapevoli di sé fanno sistematicamente. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, le persone consapevoli di sé, come si comportano? Bene, intanto analizzano le situazioni, analizzano i dettagli e non trascurano di prendere informazioni sulle varie situazioni della loro vita. Sono consapevoli del fatto che devono coltivare le loro abilità, sono consapevoli del fatto che devono coltivare le loro capacità. Questa è una cosa molto importante. Poi, un'altra cosa, un'altra abilità che hanno, un'altra capacità, un'altra attività è l'empatia. Sono persone empatiche. Persone empatiche cosa vuol dire? Sono persone che restano, diciamo, in contatto con gli altri a livello profondo, a livello autonomo. Hanno dei motivazioni, hanno la motivazione, come quattro caratteristiche, sono fortemente motivati nelle cose che fanno. La motivazione è un motivo all'azione, non fanno le cose tanto perché non sanno cosa fare. La quinta caratteristica, utilizzano l'intuizione. Si fidano della loro intuizione. Questo è molto importante. Poi, un'altra cosa, hanno fede e fiducia in se stessi e nell'universo. Settima caratteristica, si addentrano nella... in un'epoca di astronauti diventano intronauti. Entrano dentro se stessi, vanno alla ricerca di se stessi e delle loro cose più profonde. E l'ottava cosa, non hanno paura a stare da soli, anzi vanno a ricercare dei momenti di solitudine per rigenerarsi, ricalibrarsi e rimodulare le cose importanti della loro vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!